Questa sera inizia il convegno di questa sera sulla cipolla rossa di Tropea qui a Campora San Giovanni, un evento molto importante. Ho parlato spesso di valutare il nostro territorio sia dal punto di vista dei sapere e soprattutto dal punto di vista dei sapori. L'altra sera abbiamo parlato dei sapere, abbiamo parlato di archeologia, oggi parliamo invece di cipolla rossa di Tropea, un viatico per la nostra città perché è una città non solo turistica e commerciale ma soprattutto una città che vive anche di agricoltura, vive di eccellenza. La cipolla rossa è l'eccellenza della nostra località e di questo soprattutto si avvalgono i nostri imprenditori, i nostri produttori che non solo la producono ma la commercializzano. Impiega soprattutto parecchie persone e questo è molto importante.